Il Monte Barro è la prima tra le cime delle prealpi lombarde che si incontra arrivando dalla provincia di Monze di Milano. La vetta, posta una quota di 922 metri, si trova in una posizione ottimale per offrire un panorama impareggiabile sui lacchi Brianzoli e sulle montagne delle chiese. Esiste una fitta rete di sentieri che permettono di esplorare il Monte Barro in svariati modi, tuttavia il mio preferito è quello che partendo da Galbiate sale lungo la cresta della montagna, regalando ad ogni passo una vista fantastica in ogni direzione. Dalla vetta vedrete le montagne del Triangolo Lariano, tra cui Moregallo, Corne di Canzio e Cornezzolo. Ottimo inoltre il punto di vista sul lago di Annone, così come il panorama verso le Grigne e la città di Lecco. Il Monte Barro è consigliato per chi cerca un percorso vario e panorama incantevoli a due passi dalla città. Il percorso descritto presenta un dislivello di 600 metri e 7 chilometri di lunghezza e si rivela adatto a tutti i tipi di escursionisti. In definitiva, se desiderate esplorare le prealpi lecchesi, non lasciatevi scappare questa splendida montagna.